Musica 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 Sonoro E il biglietto costa solo 3 euro! E' inconcepibile che un giovane sardo negli anni 70 debba partire fuori dalla sua terra, che il medio campidano negli anni 70, negli anni 70, negli anni 70... Vabbè, andiamo un po' avanti dagli anni 70... ...deba partire perché qua non ci sono possibilità e perché non ci sono, diciavolo, non è un mistero, perché le si danno sempre ai soliti, figli del sindaco i muri, di una cultura... Aaaaaaah, cabba, da bolle, tu! La mamma è troppo forte, ha già accettato il sacrificio. Al teatro Massimo, dalle 7, da stasera, tutti i giorni, esodo, un tributo a Sergio Azzeni. Aio! 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 Aio!